Ciao e benvenuti nel nostro canale. In questo spazio sacro esploreremo insieme le profondità della parola di Dio e cercheremo di farla risplendere nella nostra vita quotidiana. Ma prima vi chiediamo di iscrivervi al canale, condividete e attivate le notifiche per non perdervi i prossimi video. Crociata di preghiera 91, per rimanere fedele alla mia fede. O Santissima Madre della Salvezza, proteggimi nel momento del bisogno quando mi trovo di fronte al male. Aiutami a difendere la parola di Dio con forza e coraggio senza paura nella mia anima. Prega affinché io rimanga fedele agli insegnamenti di Cristo e non mi arrenda mai alle mie paure, alle mie preoccupazioni e alla mia tristezza. Aiutami affinché io possa avanzare senza timore su questa via solitaria per proclamare la verità della sacra parola di Dio, anche quando i nemici di Dio renderanno questo compito quasi impossibile. O Madre Benedetta, ti chiedo che, mediante la tua intercessione, la fede di tutti i cristiani rimanga salda in ogni momento durante la persecuzione. Amen Grazie per averci seguito, se il video ti è piaciuto, ti invitiamo a iscriverti al canale e mettere un mi piace a questo video.